Alessandro, oggi l'assessore è venuto qui in casa tua e ci sono delle speranze che tu dà da via presto. Sì, ci sono molte speranze e di questo devo proprio ringraziarlo perché altrimenti ero disperato. Assessore, qui ha toccato con mano quali sono i disagi, soprattutto per una persona che ha delle difficoltà di ambulare. Quali speranze possiamo dargli per il trasferimento? Certamente sono momenti importanti per me, proprio per dare una sostanza al mio lavoro, toccare i problemi in carne viva. Quindi sono anche grato a queste persone che oggi mi hanno ricevuto nella loro casa. Il disagio lo conosco, un disagio diffuso e tutta questa operazione di begato nasce proprio perché vogliamo dare dignità a queste persone e sostanza al diritto costituzionale all'abitazione. Quindi adesso, nei prossimi mesi, ad Alessandro si proporrà un trasferimento, possibilmente nelle zone che lui ha indicato che possano anche consentire di seguire i suoi percorsi e le cure di cui ha bisogno. Verranno persone specializzate che avranno il compito di accompagnarlo in questo nuovo inizio perché tale è e noi saremo al suo fianco. Diciamolo, chi non può recarsi al laboratorio d'ascolto ha comunque la possibilità di far venire a domicilio gli psicologi piuttosto che chi deve parlare con loro del trasferimento? Assolutamente sì. Abbiamo predisposto dei protocolli per cui le persone saranno tutte contattate telefonicamente per concordare gli appuntamenti. Chi può si recherà al laboratorio d'ascolto, chi non può chiederà il supporto a domicilio e quindi i nostri operatori verranno, quindi saranno ricevuti nelle abitazioni e svolgeranno i colloqui previsti.